Il sostituto procuratore generale Felice Lima ha chiesto in appello la conferma delle condanne nei confronti dei due medici accusati di aver convinto donne incinta che volevano abortire ad eseguire l'interruzione di gravinanza non in ospedale per mancanza di posti disponibili per lunghissime liste di attesa ma privatamente. Il processo d'appello vede imputati i medici Giuseppe Lupino, primario anestesista che era in servizio nel reparto di rianimazione dell'azienda Papardo Piemonte e il ginecologo Giovanni Cocivera all'epoca in servizio nel reparto di ginecologia del Papardo. I due dottori in primo grado sono stati condannati rispettivamente a sei anni e a sei anni e mezzo. A entrambi sono state riconosciute le attenuanti generiche. La decisione sulla richiesta di condanna del procuratore generale si conoscerà il prossimo 19 febbraio. Il collegio d'appello presiduto dal giudice il Fredo Sicuro ha infatti disposto il rinvio per l'atto finale nonostante ieri pareva fosse tutto pronto per la sentenza dopo le arringhe degli avvocati.